Ecco, già da tempo si parlava della sua candidatura, poi è arrivata l'ufficialità. Innanzitutto, perché candidarsi alla carica di prima cittadina? Per un senso di responsabilità che mi sembra di aver dimostrato in questi dieci anni di amministrazione, i primi cinque da assessore in parte a vice sindaco e gli altri cinque, gli ultimi cinque, subito da vice sindaco con i quattro assessorati. Sì, pertanto ho ritenuto doveroso continuare questo percorso per dare continuità a tutto il lavoro che c'è ancora da fare, che è stato intrapreso, che deve essere ultimato e per dare il nuovo slancio che abbiamo in mente di dare in un'ottica nuova alla luce anche di quanto il 2020 ci ha presentato. Per quanto riguarda la sua squadra? È una squadra contrassegnata dai tre simboli politici, Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, quindi ha una forte connotazione politica con un'alleanza ben definita e stabilita, fortemente voluta da me per identificare quello che è il mio senso di appartenenza in modo da non equivocare neanche il voto dei cittadini. Quindi ho ritenuto fondamentale che anche tutta la squadra avesse questa connotazione, una squadra nata in parte da un processo di continuità, invece da elementi nuovi che negli anni alcuni ci hanno seguiti e alcuni invece vogliono intraprendere questa avventura, che è comunque bella e piena di stimoli e naturalmente impegnativa, impegnativa perché quello che ho richiesto a tutti è il senso di responsabilità e anche di sobrietà allo stesso tempo perché fare l'amministratore oggi vuol dire impegnarsi. Non abbiamo bisogno di consulenti ma invece abbiamo bisogno di persone che mettono in atto tutte le loro risorse e le loro capacità per mettere a disposizione, per essere a servizio di quella che è la nostra collettività. Ci può anticipare alcuni punti del programma? I punti del programma spaziano da quello che in primis abbiamo messo il bilancio perché comunque sappiamo benissimo che i conti in ordine sono la cosa più importante anche perché poi questo ci permette di usare queste risorse nel migliore dei modi e ci permette anche di avere la tranquillità per poi fare delle opere. Quindi da una parte il bilancio, dall'altro l'attenzione, un welfare dei cittadini che mi ha connotato in questi anni, quindi un'attenzione ai bisogni delle persone da 0 a 99 con tutte le connotazioni e le accezioni, in particolare alle famiglie. Poi abbiamo messo le cose importanti, alcune opere pubbliche che noi riteniamo importanti, quali sia il completamento di tutte le opere che abbiamo messo in atto, quali alcune vie principali, la piazza Sant'Andrea e abbiamo anche in essere due progetti importanti, quali la ristrutturazione del Collegio Angelo Mai e anche dell'Ala Sud e del Palazzo Municipale. Insieme a questo abbiamo tanto altro, ma soprattutto ristabilire delle buone relazioni perché è il futuro che abbiamo davanti, seppur lo vogliamo vedere con una forte accezione di ottimismo, ma sappiamo che non sarà facile, quindi l'occhio di riguardo sarà anche per il lavoro di tutti e non dimentico il commercio e il turismo che porteranno via e saranno una forte sfida per quello che sarà la nuova amministrazione.